eccoci a questa escursione in val di susa siamo sopra condove partenza da prato del rio passiamo per la punta sbarò e poi la punta di grifone eccoti il tracciato che è disponibile in descrizione punta sbarò 2.223 metri 2.406 la punta di grifone siamo alla partenza guardiamo in basso le luci che si vanno spegnendo e l'alba la luna fa ancora capolino in mezzo alle piante vediamo le montagne che si illuminano sulle montagne al di là della val di susa in verso la pianura ci fermiamo una cappelletta e il nostro sguardo è tirato dalla punta sbarò che si guarda là in alto eccola qui più da vicino la ramana che si sale lo sguardo si allarga sulle montagne là in fondo appare la sagoma del monviso la pianura i laghi di abiliana la punta sbarò adesso decisamente più vicina la in fondo si vede la seconda meta la punta di grifone la punta di lumella il rocciamellore si intravede dietro eccoci qui più in alto si vedono bene le montagne che contornano la valle di lanzo la croce rossa l'albaron di savoia la pezzanese eccoci finalmente verso la punta della punta sbarò punta sbarò 2223 metri il sguardo è amplissimo lì in fondo si intravede la punta di grifone che sarà la nostra meta successiva eccoci a questo giro a 360 gradi dalla punta di sbarò la val di susa lì sotto c'è il colle del colombardo e da questa parte in basso la val di viù e in fondo il monte rosa beh forse è bene mettere qualche nome su queste montagne ecco le montagne più lontane lì in fondo ci lasciamo prendere lo sguardo dal gruppo del monte rosa il primo viso salutando la punta sbarò ci avviamo verso la punta di grifone eccola qui davanti a noi guardiamo indietro la punta sbarò appena percorsa eccoci finalmente alla punta di grifone sormontata da questa croce lo sguardo a 360 gradi dalla punta di grifone è amplissimo su tantissime montagne abbiamo un viso là in fondo la punta sbarò che abbiamo raggiunto prima la pianura i cidrari la valle di viù in fondo il monte rosa scendendo riguardiamo la nostra punta di grifone che abbiamo raggiunto e scendendo ancora a valle riguardiamo la punta sbarò che abbiamo raggiunto in precedenza grazie a te se hai voluto vedere queste video ciao alla prossima ciao ciao